Questa settimana ho ricevuto ben 5 email di amiche, mie lettrici in particolare, che mi chiedevano tutte la stessa identica cosa. Beh, in realtà le domande erano poste in maniera diversa, alcune più articolate, in alcune email c'era addirittura qualcuna che si raccontava, raccontava la sua storia e mi scriveva tantissime altre cose, altre un pochino più dirette, diciamo andavano alla, come dire, al dunque. Ma il succo delle loro domande, soprattutto del loro email, non cambia, anzi, la domanda che emergeva era sempre la stessa. Cosa significa avere un'alta autostima? Con il podcast di oggi rispondo contemporaneamente a Flavia, Lucia, Deborah, Rihanna e Leila. Cominciamo col dire che avere un'alta autostima è positivo, è ovviamente positivo. Le persone che hanno una sana e forte autostima credono in se stesse e in quello che fanno, ovviamente. Hanno fiducia in se stesse e nelle proprie capacità. L'autostima è una sorta di valore percepito che ognuno di noi ha. Io che sto facendo creando questo podcast, tu che mi stai ascoltando, le amiche che mi hanno scritto l'email e anche, naturalmente, tutte le altre persone che vorranno poi in futuro ascoltare con gioia e amore questo podcast. Insomma, tutti noi abbiamo una sorta di percezione e di valore di noi stessi. Chi ha autostima pensa e percepisce che vale. Va da sé che avere un'altra autostima aiuta ad avere più successo nella vita, in quello che si fa, nel lavoro, nello sport, nello studio, nei rapporti sociali, eccetera. Ci sono moltissimi studi che affermano che chi ha una sana autostima ha persino una migliore salute fisica e ovviamente mentale, come ha anche migliori relazioni sociali. Sta bene con se stessa e sta bene ovviamente insieme agli altri. Il problema arriva quando l'alta autostima sfoce in quello che gli psicologi chiamano autostima ipertrofica, che non è propriamente bella. In quel caso l'autostima diventa eccessiva e non è più positiva. Chi ha l'autostima ipertrofica tende a sentirsi superiore agli altri. È anche un po' arrogante. Si sovrastima in maniera quasi narcisista, mi verrebbe da dire. Diventa egoista e finisce per danneggiare se stessa o se stesso, se sei un maschilto come me, e anche i rapporti che ha con gli altri, ovviamente. In tutti gli eventi formativi, le conferenze sull'autostima, la motivazione che tengo in giro per l'Italia, anche i miei libri, io tendo sempre a consigliare di nutrire la propria autostima in maniera positiva, in maniera sana, ma è cercando ovviamente di non diventare mai delle persone superbe, perché in questo caso si sfocerebbe appunto in quella autostima ipertrofica, che sottolineo ancora per una volta, non è per nulla positivo. Spero di aver dunque dato una risposta a Flavia, Lucia, Deborah, a Arianna e a Leila, e naturalmente anche a te che stai ascoltando questo podcast, e sottolino ancora una volta che avere un'alta autostima è positiva, ma quando questa autostima sciama, sfocia in una sorta di superbia, di arroganza, è naturalmente negativo. E dunque bisogna stare molto, molto attenti, nutrirla in maniera positiva, ma evitando di diventare delle persone superbe. Ricorda, la persona che ha una sana autostima crede in se stessa ed aiuterà sempre gli altri, ti tenderà una mano e ti aiuterà, e non ti dirà mai e poi mai che non puoi farcelo, e soprattutto non ti farà mai sentire inferiore a lei. Io sono Giancarlo Fornai, un mental coach, quello che tutti in rete chiamano il coach delle donne per la sua grande esperienza di lavoro proprio con l'universo femminile. Vienimi a trovare sul mio blog principale, coachingperdonne.com, oppure sui social, Giancarlo Fornai ovviamente. E se ti va, leggi l'ultimo mio libro, Autostima Zero. Come alzare l'autostima, motivarsi al massimo e vivere felici e contenti, grazie a 33 consigli pratici e pieni di buon senso, almeno spero. Se hai una domanda anche tu, scrivimi a info-giancarlofornai.com. Un forte, fortissimo abbraccio e al prossimo podcast.